Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 29 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Orosco Pariete. Perfetta intesa con voi stessi e con gli altri. Tutti gli astri a favore, Luna, Venere, Giove e il Sole in se stile, necessari per placare l'animosità del pianeta rosso, che di regola vi manda su di giri, ecco la ragione della vostra serenità, che vi rende più disponibili e colloquiali anche con gli altri. Parenti, amici, colleghi, beneficiano del vostro buon umore, potete improvvisare una seratina da voi tra film e giochi di ruolo, oppure parlare di weekend e vacanze, accordandovi per iniziative future ma non troppo in città d'arte o paesaggi collinari in un contesto in linea col vostro umore. Immaginate la Provenza di Van Gogh, la stagione promette meraviglie. Esami e interrogazioni con voti da sballo, ben oltre le più rose e aspettative. Un uomo bruno, molto esperto ed energico aiuterà la coppia a uscire da una crisi o a realizzare un progetto. Un amico sincero, un parente saggio sarà molto vicino alla coppia. Un viaggio presto in coppia. I singli incontreranno un uomo maturo, più grande di loro che potrebbe essere la scintilla per qualcosa di nuovo e di interessante, ma dovranno fare attenzione, molta attenzione. Non è oro tutto quello che in fin dei conti luccica. La situazione che state vivendo è davvero complicata e occorrerà tutta la vostra buona ergia per venirne fuori. Chi vive un amore clandestino dovrebbe stare molto attento alle confidenze che avrete fatto agli amici, qualcosa potrebbe trapellare del vostro amor segreto e mettervi in serie guai. Un incontro particolare potrebbe sconvolgervi e tenervi in apprensione per quasi tutta la giornata, in serata sarete più sereni ma occhio agli imprevisti che potrebbero anche seminare del panico in voi. Guardate lontano, oltre l'orizzonte, nuove amicizie interessanti si prospettano, ma dovete liberarvi di alcuni freni che vi tengono fermi e inammovibili. Una situazione particolare richiede grandi sacrifici e grande spirito di adattamento, potreste incontrare nella prima mattinata delle difficoltà, ma dal tardo pomeriggio la situazione volgerà sicuramente in meglio. Mettete prima di tutto il dialogo con le persone che vi circondano, non siate permalosi e non cercate significati nascosti in tutto quello che vi viene detto. In altre parole non prendetela sempre sul piano personale. Qualche pena in amore per delle incomprensioni che non avrebbero ragione di esistere. Forte magnetismo. Un incontro speciale. Non frenarti nei sentimenti e manifestali chiaramente.Nel lavoro risulterai energico e bravo. I nati di lunedì avranno qualche piccolo colpo di fortuna. Potreste trovare un valido aiuto in un amico o in un parente, cercate di non abusarne e sfruttate l'aiuto nel miglior modo possibile. Il vostro pianeta nome tutelare, Marte transitante proprio nel vostro segno cambia gli scenari del vostro cielo. Grinta, entusiasmi a volontà, intento di affermazione non vi mancheranno, specie se festeggiate il vostro compleanno in aprile. Il rosso pianeta rimarrà in ariete fino al 9 di giugno. A pranzo con i colleghi oggi approfittate degli sconti indetti per la giornata mondiale dell'amburger e così anziché alla spicciolata uscite col vostro gruppetto, i migliori dite voi, concordi con la coppia Luna-Plutone in se stile al vostro segno. Chiacchiere divertenti garantite dal sole, venere e giove in gemelli, ma tra qualche pettegolezzo si insinuano anche discorsi seri e proposte da prendere in considerazione. Tra gli argomenti clou cultura e vacanze, l'estate si avvicina a grandi passi, qualcuno comincerà anche a prendere ferie. Amore ed eros. Sulla gamma dei sentimenti, che sia amicizia, amore o semplice simpatia, oggi preferite non interrogarvi, non vi importa di quello che provate, ma di ciò che si può fare insieme a persone in gamba, sulla stessa lunghezza d'onda. Essenziale condividere ideali e obiettivi, sentirvi parte di un gruppo vi dà sicurezza. Nella sfera dei sentimenti, se cercate l'anima gemella, guardatevi bene attorno, convenere sempre costantemente al vostro fianco, dai gemelli e specie se festeggiate il compleanno nella prima e nella seconda decade arietina, potreste arrivare alla gognata meta. Non senza aver, però, razionalmente eliminato alcune chimere, ancora radicate nella vostra mente e forse ancor più nel vostro cuore, chimere che intralciano un sentiero affettivo maturo. La stabilità affettiva è assicurata da Saturno che si trova in ottima posizione. Se siete una coppia di lungo corso potrete godere degli effetti positivi di maturetà che un'intesa consolidata sa offrire. Lavoro e denaro? Nessuna rivalità sia nel lavoro, sia negli interessi, coi colleghi collaborate serenamente, portando avanti tutti insieme la marea di incombenze appioppate dal capo. Valore irrinunciabile, sentirvi in pace con voi stessi e comunicare piacevolmente con chi vista accanto. Soddisfazione per gli studenti che concludono in bellezza il loro anno scolastico, salvi anche stavolta grazie alle dritte di un compagno e soprattutto allo studio e alla preparazione degli esami svolti in gruppo, ogni testa è un mondo con talenti e capacità che messi a disposizione degli altri fanno volare tutti insieme nell'empireo del successo. Un bel giove ritornato a sorridervi apre nuove strade e percorsi di lavoro se siete in cerca di occupazione oppure se volete proprio cambiare la vostra professione. Per il momento a sentirne beneficamente gli influssi saranno gli arieti nati nella prima decade gratificati da occasioni fortunate nuove opportunità. Sappiate mettervi in gioco e proponetevi specie se siete ragazzi appena usciti dal mondo dell'istruzione o dall'università. Benessere. Sereni e rilassati, la mente spazia libera verso orizzonti azzurrini. Azzurro anche il colore da indossare, tra i bijux acquamarina o calcedonio, il primo protegge la coppia, il secondo i viaggi e il lavoro intellettuale. Per lei, niente imprese folli nei vostri programmi, oggi non farete scintille ma la vostra professionalità, la comunicativa e lo spirito imprenditoriale fanno buone impressioni a capi e colleghi di alto livello e chissà mai che tra loro non ci sia anche qualche ammiratore. Piano, prima la mente, poi il fisico. Per lui, per un affare che inseguite da tempo è arrivato il momento decisivo, compravendita vantaggiosa contrattativa conclusa con successo. Colore delle emozioni, azzurro cielo. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 8, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.